Diritti e doveri del cittadino. Ogni proprietario di un generatore a legna o pellet ne è anche responsabile legalmente. Deve quindi rispettare degli obblighi di legge che riguardano la conduzione dell'impianto e per fare ciò può vantare dei diritti nei confronti dei tecnici chiamati operare sull'impianto ma ha anche dei doveri. Quali sono i diritti? Ricevere un preventivo con i termini dell'intervento, esigere che i lavori siano svolti in sicurezza, ricevere la dichiarazione di conformità, avere le corrette informazioni sulla modalità di gestione delle tempistiche e delle manutenzioni dell'impianto, ricevere la dichiarazione di avvenuta manutenzione. I doveri invece sono gestire l'impianto secondo le indicazioni del costruttore e del manutentore, fare effettuare la manutenzione secondo le indicazioni del manutentore o dell'installatore, conservare con cura tutta la documentazione tecnica dell'impianto, verificare che l'operatore sia abilitato, garantire la sicurezza durante i lavori. La documentazione tecnica dell'impianto, cioè la dichiarazione di conformità, è il documento più importante dell'impianto, il cui format è definito dalla legge e obbliga l'installatore a descrivere il lavoro che ha fatto e a dichiarare a che norme si sia attenuto. Viene redata da un operatore iscritto alla Camera di Commercio e abilitato alla lettera C secondo il decreto ministeriale 37 del 2008 e controfirmata dal cliente che è il conduttore dell'impianto. La manutenzione obbligatoria dell'impianto deve essere eseguita da personale abilitato, che rilascerà il rapporto di controllo e manutenzione, con il quale dichiara se l'impianto può continuare a funzionare o se si devono fare dei lavori entro 30 giorni oppure se, per gravi lacune in materia di sicurezza, non potrà essere utilizzato fino all'avvenuta messa norma. Il responsabile dell'impianto, cioè il proprietario, deve farsi carico delle operazioni di installazione e manutenzione, che per legge devono essere affidate solo a operatori qualificati. La periodicità con cui deve essere effettuata la manutenzione è indicata generalmente nel libretto di uso e manutenzione del generatore, ma è importante anche seguire le indicazioni dell'installatore e del manutentore, che valutano l'impianto calato nel suo contesto abitativo. Il responsabile dell'impianto è anche responsabile della sicurezza del professionista che effettua le operazioni di installazione e manutenzione all'interno della propria abitazione, alla stegua del datore di lavoro. Per rispettare la normativa vigente in tema di responsabilità, il proprietario deve dotare la propria abitazione di un sistema di ancoraggio, la cosiddetta linea vita. Il sistema di ancoraggio deve essere certificato e revisionato annualmente e deve far firmare al professionista un documento di presa e visione della stessa, con cui si dichiara che ha le necessarie abilitazioni per l'uso di dispositivi di protezione individuale, cioè IDP di terza categoria. Essere informato è responsabilità del proprietario dell'impianto, ma è anche un'opportunità per l'operatore di fidelizzare il cliente in nome della sicurezza e della salute.